Nel clima della festa gioiosa del Natale, la Chiesa fa memoria oggi della figura di Santo Stefano, il primo a versare il proprio sangue per Cristo e il Vangelo. E Papa Francesco all'Angelus ha spiegato che questa ricorrenza nell'ottica della fede è in piena sintonia perché nel martirio la violenza è vinta dall'amore, la morte dalla vita. Questo perché Gesù trasforma la morte di quanti lo amano in aurora di vita nuova. Nel martirio di Stefano quindi si riproduce lo stesso confronto tra il bene e il male, tra l'odio e il perdono, tra l'amitezza e la violenza, che hanno avuto il suo culmine nella croce di Cristo. E la memoria del primo martire viene così immediatamente a dissolvere una falsa immagine del Natale, l'immagine fiabesca e sdolcinata che nel Vangelo non esiste. In questo orizzonte si è elevata la preghiera del Pontefice per i cristiani che subiscono discriminazioni per quanti vengono oggi accusati ingiustamente e fatti oggetto di violenze di vario tipo. Questo accade specialmente là dove la libertà religiosa non è ancora garantita, non è pienamente realizzata. Accade però anche in paesi e ambienti che sulla carta tutelano la libertà e i diritti umani, ma dove di fatto i credenti, e specialmente i cristiani, incontrano limitazione e discriminazione.